Sabato mattina Papa Francesco ha incontrato il signor Victor Ponta, Primo Ministro della Romania. Il Primo Ministro ha portato i saluti del Patriarca Ortodosso Daniele. Al centro dei colloqui sono stati temi della famiglia, dell'educazione, della libertà religiosa, della salvaguardia dei valori comuni, nel contesto della collaborazione tra Santa Sede e Romania a livello bilaterale nell'ambito della comunità internazionale. Nel rilevare il potenziale della Chiesa Cattolica per contribuire al bene comune dell'intera società sono state toccate anche alcune questioni aperte che interessano la comunità cattolica. Infine c'è stato uno scambio di opinioni sull'attuale situazione internazionale ribadendo l'auspicio che si persegue alla via del dialogo e del negoziato per porre fine ai vari conflitti che affliggono il mondo.